Inizieranno nel mese di ottobre i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Pordenone, giunto al nono anno di attività. Una dozzina di scuole, tra primarie e secondarie di secondo grado, tramite rappresentanti individuati in ogni classe, daranno vita a un'assemblea di circa 40 consiglieri. Una volta al mese, essi si incontreranno per sviluppare il tema di quest'anno dedicato al rispetto della persona. I lavori si concluderanno nel mese di maggio 2013 e saranno, come di consueto, sottoposti all'attenzione degli amministratori comunali. Ci sono anche delle novità in arrivo, le illustra l'assessore all'istruzione Flavia Rubino. Continua anche quest'anno l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, con una novità che viene richiesta da un bando regionale, secondo la quale i ragazzi quest'anno coinvolgeranno anche le prime due classi delle scuole superiori, attraverso un intervento della consulta. I ragazzi delle medie incontreranno anche il Consiglio regionale e termineranno i loro incontri a Roma, potendo assistere ad una seduta del Parlamento. Per l'anno prossimo i ragazzi grandi si prevede possano invece assistere ad una seduta del Parlamento europeo. Grazie. 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 Grazie.